Hai mai trovato una moneta per strada e ti sei chiesta o chiesto se potesse avere un significato più profondo? Immagina di camminare tranquillamente lungo il marciapiede, perso nei tuoi pensieri, quando improvvisamente qualcosa cattura la tua attenzione. Una piccola moneta luccica sotto i raggi del sole. La raccogli, incuriosito, e ti chiedi se potrebbe essere più di una semplice coincidenza. Anche a noi è successa un'esperienza simile, un momento che ha cambiato la nostra prospettiva sulla vita e sul mondo spirituale. Dolores Cannon, una delle più grandi esperte di regressione e spiritualità, ci ha insegnato che nulla accade per caso. In questo video esploreremo insieme i segreti nascosti dietro il ritrovamento di una semplice moneta, rivelando come possa essere un messaggio dagli angeli, un segno di abbondanza o un'indicazione del nostro percorso karmico. Rimanete con noi fino alla fine per scoprire come interpretare questi segnali e come possono trasformare la vostra vita. Oggi sei la benvenuta o il benvenuto su Ricarica Mentale. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per altri video straordinari. Le sincronicità sono quei momenti apparentemente casuali che sembrano troppo significativi per essere solo coincidenze. È come se l'universo ci stesse mandando un messaggio, un piccolo segnale che ci guida lungo il nostro percorso. Secondo Carl Jung, il concetto di sincronicità descrive eventi che sono significativamente connessi, anche se non sono collegati causalmente. Immagina di pensare intensamente a un vecchio amico, e proprio in quel momento, ricevi una sua chiamata. Questa è una sincronicità, un momento magico che ci fa riflettere sul potere dell'universo e delle sue misteriose connessioni. Trovare una moneta per strada può sembrare insignificante, ma molte tradizioni spirituali lo vedono come un segno di qualcosa di più grande. Le monete, spesso considerate simboli di abbondanza e fortuna, possono rappresentare messaggi dagli angeli o segnali dell'universo. Secondo la numerologia, i numeri sulle monete possono avere significati particolari. Ad esempio, trovare una moneta da un centesimo potrebbe simboleggiare nuovi inizi, mentre una moneta da cinque centesimi potrebbe rappresentare cambiamenti imminenti. Ogni moneta porta con sé un messaggio unico, un piccolo frammento di saggezza da decifrare. Dolores Cannon, una delle pioniere nel campo della regressione ipnotica e della spiritualità, ha dedicato la sua vita a esplorare i misteri dell'anima e dell'universo. Attraverso le sue sessioni di regressione, Dolores ha scoperto che molte persone trovavano monete in momenti chiave della loro vita. Queste monete non erano semplici oggetti, ma veri e propri messaggi inviati da guide spirituali per offrire conforto, guida e incoraggiamento. Le sue rivelazioni ci invitano a prestare maggiore attenzione ai piccoli dettagli che l'universo ci offre, aiutandoci a vedere il mondo con occhi nuovi e a riconoscere i segni del nostro percorso spirituale. Gli angeli sono esseri di luce che ci guidano e proteggono lungo il nostro cammino. Spesso, scelgono modi sottili per comunicare con noi, come il ritrovamento di una moneta per strada. Ogni moneta trovata può essere vista come un messaggio d'amore e supporto dagli angeli. Ad esempio, trovare una moneta in un momento di difficoltà può essere un segno che non siamo soli, che le nostre preghiere sono sempre ascoltate. Questi piccoli gesti angelici ci ricordano che siamo sempre sostenuti e che l'universo cospira a nostro favore, anche quando le circostanze sembrano avverse. Le monete trovate per strada sono anche simboli potenti di abbondanza. Rappresentano la ricchezza che l'universo è pronto a offrire a coloro che sono aperti a riceverla. Questo concetto di abbondanza non si limita solo al denaro, ma include anche amore, felicità e opportunità. Quando troviamo una moneta, è un promemoria che l'abbondanza è ovunque intorno a noi, pronta a manifestarsi nelle nostre vite. Per attrarre più abbondanza, è importante mantenere una mentalità positiva e aperta, riconoscendo e apprezzando i piccoli doni che riceviamo ogni giorno. Molte persone hanno condiviso le loro storie di ritrovamento di monete e di come queste esperienze abbiano avuto un impatto significativo sulle loro vite. Una donna racconta di aver trovato una moneta da un centesimo ogni volta che stava per prendere una decisione importante, interpretandolo come un segno di andare avanti. Un uomo, invece, ricorda come le monete trovate dopo la morte della sua amata nonna lo abbiano aiutato a superare il dolore, sentendo la presenza rassicurante della nonna attraverso quei piccoli segni. Queste testimonianze ci mostrano come i messaggi dell'universo possono avere un profondo impatto emotivo e spirituale. Il karma è il principio di causa ed effetto che governa le nostre vite. Ogni azione che compiamo genera una reazione che ritorna a noi in qualche forma. Le monete trovate per strada possono essere viste come segni karmici, riflettendo le energie positive che abbiamo messo nel mondo. Trovare una moneta può essere un segno che stiamo raccogliendo i frutti delle nostre buone azioni, un promemoria che il bene che facciamo torna sempre indietro. È un invito a continuare a vivere con integrità e compassione, sapendo che l'universo riconosce e premia le nostre intenzioni pure. Le monete possono anche essere utilizzate come strumenti per manifestare i nostri desideri. Attraverso semplici rituali e tecniche di visualizzazione, possiamo canalizzare le nostre intenzioni nelle monete e usarle come talismani per attrarre ciò che desideriamo nella nostra vita. Ad esempio, potremmo tenere una moneta nella mano mentre meditiamo sui nostri obiettivi, visualizzando il raggiungimento dei nostri sogni. Quando poi troviamo una moneta per strada, possiamo interpretarla come un segno che il nostro desiderio sta per realizzarsi, rafforzando la nostra fede e motivazione nel perseguire i nostri sogni. Il viaggio dell'anima è un percorso continuo di crescita e scoperta, e ogni esperienza che viviamo contribuisce a questo viaggio. Trovare una moneta per strada può sembrare un evento banale, ma nel contesto del viaggio dell'anima, può rappresentare molto di più. È come se l'universo ci stesse dando un piccolo promemoria che siamo sulla strada giusta, che stiamo seguendo il nostro vero scopo. Le monete possono apparire nei momenti in cui abbiamo bisogno di rassicurazione o guida. Possono essere viste come segni che indicano che stiamo avanzando nel nostro cammino spirituale, che le nostre decisioni e azioni sono in armonia con il nostro vero sé. Ogni moneta trovata è come una pietra miliare nel nostro viaggio. Un segnale che ci incoraggia a continuare, a fidarci del processo e a rimanere aperti alle lezioni che l'universo ci offre. Il pensiero positivo è uno degli strumenti più potenti a nostra disposizione per creare la vita che desideriamo. Quando manteniamo una mentalità positiva, attiriamo energie positive e manifestiamo abbondanza e felicità. Le monete trovate per strada possono essere viste come conferme del potere del nostro pensiero positivo. Sono promemoria tangibili che ciò che pensiamo e crediamo può realmente influenzare la nostra realtà. Per mantenere una mentalità positiva, è importante concentrarsi su ciò che vogliamo attrarre nella nostra vita, piuttosto che su ciò che vogliamo evitare. Visualizzare i nostri desideri come se fossero già realizzati, esprimere gratitudine per ciò che abbiamo e circondarci di persone e ambienti che ci sostengono sono tutte pratiche che possono amplificare il nostro potere di manifestazione. Le monete trovate lungo il nostro cammino ci ricordano che l'universo risponde alle nostre vibrazioni e che possiamo cocreare la nostra realtà attraverso i nostri pensieri e intenzioni. La meditazione e la riflessione sono strumenti essenziali per comprendere i messaggi spirituali che riceviamo. Quando troviamo una moneta, prendere del tempo per meditare su di essa può rivelare significati più profondi e intuizioni personali. Sedersi in silenzio, chiudere gli occhi e concentrare la mente sulla moneta trovata, ci permette di connetterci con la nostra saggezza interiore e con le energie dell'universo. Durante la meditazione, possiamo porci domande come, cosa significa questa moneta per me? Quale messaggio l'universo sta cercando di trasmettermi? In che modo questa moneta si collega alla mia attuale situazione di vita? Le risposte possono emergere sotto forma di intuizioni, sentimenti o immagini mentali. Riflettere su queste risposte può offrire una guida preziosa e chiarire il nostro cammino. La pratica regolare della meditazione e della riflessione ci aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza e a riconoscere i segnali dell'universo con maggiore facilità. La numerologia è lo studio del significato dei numeri e del loro impatto sulla nostra vita. Ogni numero ha una vibrazione unica e può rivelare informazioni importanti sul nostro cammino spirituale. Quando troviamo una moneta, il numero impresso su di essa può avere un significato particolare. Ad esempio, il numero 1 simboleggia nuovi inizi e indipendenza, mentre il numero 5 rappresenta cambiamento e avventura. Interpretare i numeri sulle monete trovate può offrirci ulteriori spunti sul messaggio che l'universo sta cercando di comunicare a noi. Possiamo cercare il significato dei numeri in testi di numerologia o affidarci alla nostra intuizione per decifrare il loro messaggio. Spesso, i numeri si presentano in sequenze che possiamo vedere ripetutamente nella nostra vita quotidiana, come l'ora su un orologio o le targhe delle auto. Questi numeri, associati alle monete trovate, possono rafforzare i messaggi che riceviamo e guidarci nel nostro viaggio spirituale. I maestri spirituali sono guide che ci aiutano a navigare nel nostro percorso di crescita e scoperta interiore. Spesso, utilizzano segni e sincronicità per comunicare con noi e offrire la loro saggezza. Le monete trovate per strada possono essere viste come strumenti che i maestri spirituali utilizzano per attirare la nostra attenzione e trasmetterci importanti lezioni. Questi maestri possono essere entità angeliche, guide spirituali o anche mentori che incontriamo nel corso della nostra vita. La loro presenza ci aiuta a rimanere focalizzati sul nostro cammino e a comprendere meglio le sfide e le opportunità che incontriamo. Le storie di persone che hanno ricevuto insegnamenti attraverso il ritrovamento di monete ci mostrano quanto profondamente i maestri spirituali possano influenzare la nostra vita e il nostro sviluppo spirituale. I sogni sono un altro modo attraverso il quale l'universo e le nostre guide spirituali comunicano con noi. Quando sogniamo monete, questi sogni possono avere significati simbolici e rivelare messaggi importanti. Ad esempio, sognare di trovare una moneta può rappresentare una nuova opportunità o un dono inatteso che sta per entrare nella nostra vita. Interpretare i sogni che includono monete richiede un approccio intuitivo e riflessivo. Possiamo tenere un diario dei sogni per annotare i dettagli e le emozioni associate a questi sogni e cercare schemi o temi ricorrenti. Le monete nei sogni possono anche collegarsi a questioni di valore personale, autostima e abbondanza. Riconoscere e comprendere questi messaggi onirici ci aiuta a integrare la saggezza dei nostri sogni nella nostra vita quotidiana e a prendere decisioni più consapevoli. Il concetto di vite passate suggerisce che la nostra anima ha vissuto molteplici esistenze prima di questa e che le esperienze di queste vite influenzano il nostro presente. Le monete trovate per strada possono essere viste come connessioni con le nostre vite passate, offrendo indizi e ricordi di chi eravamo e delle lezioni che abbiamo appreso. Attraverso le sessioni di regressione, come quelle condotte da Dolores Cannon, possiamo esplorare le nostre vite passate e scoprire come eventi e simboli, come il ritrovamento di monete, siano stati significativi in quei tempi. Questi simboli possono riapparire nella nostra vita attuale per aiutarci a completare cicli karmici o per offrire conforto e guida. Riflettere sulle connessioni tra le monete trovate e le nostre vite passate può aprirci a una comprensione più profonda del nostro percorso spirituale e delle lezioni che siamo qui per imparare. Le monete possono anche essere utilizzate come strumenti per la guarigione spirituale. Attraverso pratiche come la meditazione, il Reiki e altri metodi di guarigione energetica, possiamo canalizzare l'energia delle monete per facilitare la guarigione a livello fisico, emotivo e spirituale. Ad esempio, possiamo posizionare una moneta sul nostro corpo durante una sessione di Reiki per amplificare l'energia di guarigione. Altri esercizi pratici includono la creazione di griglie di cristalli che incorporano monete, utilizzando la loro energia per attrarre abbondanza e guarigione. Le monete possono anche essere caricate con intenzioni positive e portate con noi come amuleti di protezione e guida. Utilizzare le monete in questo modo ci aiuta a connetterci con l'energia universale e a promuovere il benessere in tutte le aree della nostra vita. I rituali sono una parte importante della nostra pratica spirituale e possono aiutare a rafforzare la nostra connessione con l'universo. Le monete trovate per strada possono essere integrate in vari rituali per amplificare le nostre intenzioni e manifestare i nostri desideri. Ad esempio, possiamo creare un altare dedicato all'abbondanza, decorandolo con le monete trovate e recitando preghiere di gratitudine. Altre pratiche spirituali includono il seppellire una moneta come offerta alla terra, simbolizzando il nostro desiderio di radicare e manifestare i nostri sogni. Possiamo anche utilizzare le monete come parte di rituali di pulizia energetica, passandole attraverso il fumo di salvia o incenso per purificarle e caricarle di energia positiva. Questi rituali ci aiutano a mantenere una connessione profonda con il divino e a vivere in armonia con le energie dell'universo. Quando incorporiamo le monete nei nostri rituali, stiamo onorando la loro energia simbolica e invitando le forze dell'universo a collaborare con noi. Un rituale semplice ma potente è quello di creare un vaso dell'abbondanza. Prendi un contenitore speciale e ogni volta che trovi una moneta per strada, inseriscila nel vaso con un'intenzione di gratitudine. Ogni moneta rappresenta un piccolo dono dall'universo e, con il tempo, vedrai il tuo vaso riempirsi, simboleggiando la crescente abbondanza nella tua vita. Un'altra pratica significativa è quella di utilizzare le monete come parte di un rituale di manifestazione. Scegli una moneta che hai trovato, tienila tra le mani e chiudi gli occhi. Visualizza il tuo desiderio come se fosse già realizzato, sentendo la gioia e la gratitudine nel tuo cuore. Poi, con un gesto solenne, posiziona la moneta in un luogo speciale o portala con te come amuleto, sapendo che l'energia del tuo desiderio è ora impressa in essa. Questi semplici atti rituali non solo rafforzano la nostra connessione con l'universo, ma ci aiutano anche a focalizzare le nostre intenzioni e a mantenere una mentalità positiva. La spiritualità è in continua evoluzione, e con essa, il modo in cui interpretiamo e interagiamo con i segni dell'universo. Le monete, come simboli di messaggi divini e abbondanza, continueranno a giocare un ruolo significativo nel nostro cammino spirituale. In un mondo sempre più complesso e frenetico, questi piccoli segni ci ricordano l'importanza di rallentare, riflettere e ascoltare le intuizioni del nostro cuore. Nel futuro, vedremo un crescente interesse verso pratiche spirituali che integrano la saggezza antica con le nuove tecnologie. Le persone saranno sempre più aperte a esplorare la sincronicità e a cercare significati profondi negli eventi quotidiani. La connessione con guide spirituali e angeli diventerà una parte integrante della vita di molti, offrendo conforto e guida in tempi di incertezza. Le comunità spirituali online cresceranno, creando spazi in cui le persone potranno condividere le loro esperienze, storie e intuizioni. Questo scambio di conoscenze e supporto reciproco rafforzerà il senso di appartenenza e connessione tra individui di tutto il mondo. Le monete continueranno a servire come punti di riferimento tangibili che ci ricordano la magia e il mistero della vita, invitandoci a rimanere aperti e curiosi nel nostro viaggio spirituale. Le sincronicità e i segni dell'universo, come il ritrovamento delle monete, sollevano molte domande affascinanti. Qual è il vero significato dietro questi piccoli eventi? Come possiamo interpretare correttamente i messaggi che riceviamo? Queste domande non hanno risposte definitive, ma invitano a una riflessione personale e a una maggiore consapevolezza. Invitiamo tutti voi a condividere le vostre esperienze e a porre domande nei commenti. Quali monete avete trovato? In quali momenti della vostra vita sono apparse? Come avete interpretato questi segni? La condivisione delle vostre storie può ispirare e aiutare gli altri a vedere la magia nelle loro vite quotidiane. Ricordate che il viaggio spirituale è unico per ciascuno di noi. I segni e le sincronicità che incontriamo lungo il cammino sono personali e soggettivi. Ciò che conta è come questi segni risuonano con voi e come vi aiutano a crescere e a evolvervi. Siate aperti, curiosi e fiduciosi nel vostro percorso, sapendo che l'universo è sempre con voi, pronto a guidarvi e a sostenervi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per altri video incredibili. Se il video vi è piaciuto condividetelo a coloro cui volete bene. Alla prossima, grazie di cuore da ricarica mentale.